Oggi facciamo un viaggio ideale a Vittoria. Vittoria è uno dei comuni sciolti per mafia, ma Vittoria non è un comune qualunque. Vittoria è il comune del mercato ortofrutticolo, il più importante del sud Italia, il secondo per importanza in Italia, ovvero il luogo dal quale partono la frutta e la verdura che ognuno di noi ha sulle proprie tavole ogni giorno. Un territorio in cui è necessario riaffermare la presenza dello Stato, l'abbiamo chiesto al prefetto Filippo Dispenza, commissario straordinario del comune. Quando ci hanno proposto questa avventura, credo sia io che i miei due amici e colleghi abbiamo accettato proprio con lo spirito del civil servant per riaffermare la presenza dello Stato e delle istituzioni repubblicane in una realtà molto complessa, in una realtà tra l'altro conosciuta a livello nazionale e internazionale per la grande economia, l'importante economia che aveva saputo creare nel settore del mercato agroalimentare, del mercato ortofrutticolo e anche dei fiori. Una risposta, non diretta ma indiretta, chi dice che lo scioglimento per mafia di Vittoria è un'onta per tutta la collettività? Intanto non credo sia un'onta per tutta la collettività, ma per coloro i quali hanno determinato con le loro azioni responsabili l'accesso della commissione della prefettura di Ragusa all'interno del comune. Naturalmente questa relazione è il nostro punto di riferimento, la nostra pietra miliare per cercare di riportare ordine, di riportare l'applicazione della legge, il rispetto delle regole. Gli appelli, la vostra opera, a qualcuna probabilmente non sta piacendo, andiamo alle note dolenti. Delle accuse che ci hanno fatto, quella più dolorosa e anche molto triste per chi l'ha posta, perché evidentemente ci sono delle difficoltà che scaturiscono da propri comportamenti irresponsabili, è quella di averci accusato, di avvelenare la gente coscientemente, della borgata di Scoglitti, che è una borgata importante perché c'è un mare straordinario, molto bello, dove ci sono migliaia di abitanti. Noi sappiamo da dove proviene questa accusa, abbiamo fatto una denuncia alla magistratura che spero che possa acclarare le responsabilità. I commissari che reggono il Comune di Vittoria oggi sono tre. Oltre al Prefetto Dispenza e al Dottor Derba, abbiamo chiesto al Dottor Dionisi l'importanza dei controlli nel mercato e nella filiera. Abbiamo trovato un mercato dove non venivano più fatti i controlli. Addirittura anche gli accessi. Controlli, soprattutto agli accessi, dove poteva entrare chiunque e si poteva uscire con qualsiasi cosa. E poi anche controlli interni, controlli amministrativi, annonari sui prodotti, sulla formazione del prezzo. Tutte cose che abbiamo trovato praticamente da anni che non si facevano. E quindi abbiamo subito attivato dei controlli da parte della Polizia Municipale, sia appunto ai varchi, in entrata e in uscita, sia appunto dei controlli più tecnici e più amministrativi, sulle licenze, sui vari permessi di vendita, sulla qualità dei prodotti, anche grazie alla collaborazione delle altre forze di Polizia, dell'ASP. e quindi in questo senso stiamo riattivando quelle regole che per tanti anni sono mancate.